Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, dalla famiglia di Somma Oro ne sentiamo un giorno sì e un giorno pure. Adesso leggo l'articolo che i soldi per i migranti sono stati utilizzati per qualsiasi cosa, cioè loro hanno utilizzato i soldi che lo Stato italiano gli dava per l'accoglienza, loro li utilizzavano per qualsiasi cosa, però lui, a Bobakar Somma Oro, non sapeva nulla, non ha visto nulla, non si è accorto di nulla. Cioè moglie, suocera e fratelli della moglie utilizzavano i soldi che lo Stato dava per i migranti, li utilizzavano per tutto, per comprare appartamenti, per fare la spesa, per andare al bar, l'enoteca, i vestiti, le calze, per comprarsi il supermercato al loro paese, non mi ricordo esattamente qual è, supermercato, villaggio turistico, case a Bruxelles, la carne, qualsiasi cosa, borse di lusso, hotel, io mi chiedo, com'è possibile che lui non sapesse nulla? Cioè quando la moglie comprava una casa a Bruxelles, lui non se ne accorgeva? Sono in separazione dei beni e la moglie faceva tutto di nascosto e lui non sapeva nulla? E' una domanda che faccio ai magistrati. Possibile che lui non si fosse accorto che moglie e suocera compravano case, supermercati, che facevano la spesa con i soldi dei migranti? Come... questa cosa qui non mi torna, non mi torna. Lui lì in mezzo non vedeva e non sapeva nulla. Com'è possibile? Vabbè, andiamo avanti. Oggi si è scoperto che avevano usato anche i soldi dei migranti, i soldi dell'Italia, per pagare la clinica privata dove Lady Soumaoro, la moglie, ha partorito. E' la nuova accusa che emerge dagli atti dell'inchiesta a carico dei familiari di Soumaoro, quello che non sapeva e non vedeva nulla. Una parte delle spese sarebbe stata pagata con i soldi riferibili ai finanziamenti pubblici per l'accoglienza dei migranti. Eh, sapete che le cliniche private costano tanti bei soldini, eh? E così Lady Soumaoro avrebbe pagato anche la clinica dove ha partorito. E' un dettaglio che emerge da una relazione del commissario liquidatore della COP Caribou, società dei familiari, del deputato che non sapeva nulla, Aboubacar Soumaoro. Riporta così la Repubblica, la relazione del commissario liquidatore. Dove si ipotizzano i reati di truffa e sono indagate Lilienne Mureketete, la sposa, moglie, di Aboubacar Soumaoro, quello che non ha visto e non si è accorto mai di nulla, e la madre Marie-Thérèse Mukamizindo, la madre della moglie, e i fratelli Michel Rucundo e Richard Mutangana e Aline Mutesi. Quindi ci sono tre fratelli, la moglie, la suocera e lui lì in mezzo, caspiterina, non si è mai accorto di nulla. Eh, uè. Se uno non si accorge, non si accorge. Se ha la mente che sta pensando 24 ore su 24 a qualcos'altro, non si accorge. Quando vedi la moglie passare tutta vestita di Louis Vuitton, non ti viene e dice, ma dove hai preso i soldi? Ah, ma no, è tutta roba falsa, l'ho comprata al mercato, 5 euro. Ho capito, ma i 5 euro dove l'hai presi? No, lui non si è accorto. Cosa vi devo dire? Se non si accorge, non si accorge. Il commissario liquidatore ha scoperto che hanno utilizzato in modo illecito 7 milioni e mezzo di euro. E io mi chiedo, ma come cavolo fai a spendere 7 milioni e mezzo di euro? Dopo che ti sei riempito il frigorifero e ti sei comprato tutti i vestiti che vuoi, ma come li spendi 7 milioni e mezzo? Bah, mistero. Beh, così il liquidatore ha cominciato a spulciare su tutte le carte dove ci sono tutte queste spese e si vede che all'interno di questi 7 milioni e mezzo oh, ledi, 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 somma oro avrebbe utilizzato i fondi anche per pagare la metà della spesa per la clinica romana dove ha partorito. Solo la metà? Non l'hai pagata tutta? Con i fondi? Solo la metà? Mi ci fai rimanere male? Come solo la metà? 450 euro relativi al supplemento richiesto dalla struttura sanitaria nel maggio 2019 per una stanza singola supplemento stanza singola gli inquirenti stanno poi provando a fare luce anche sull'acquisto della casa dove oggi vivono a Roma in zona Casal Palocco dove vive la moglie Lilien Murachetete e lui Souma Oro la guardia di finanza vuole capire quali soldi siano stati utilizzati il sospetto è che circa 32 mila euro arrivino da somme ottenute illegittimamente da una delle copp di famiglie di famiglia il consorzio AID i faldoni dell'inchiesta sono tantissimi tra le carte emergerebbe anche l'acquisto da parte della madre di Murachetete di una cucina per la sua abitazione di Latina fatta con soldi sospettano gli inquirenti destinati alle copp di famiglia se vanno a e appurano verificano che la casa sia stata eventualmente comprata con una parte di soldi per i migranti come fate a dirmi ancora che questo Abu Bakr Souma Oro non c'entra niente non sa nulla cioè alla fine compra una casa senza sapere i soldi da dove arrivano e insomma mi sembra un po' continuare a dire lo dico ai magistrati che lui non sa nulla non sapesse nulla non sapeva nulla come fai? beh secondo me prima o poi vedrete che che anche su questo cambieranno le cose io credo di sì però vedremo e poi ci sono le accuse di bancarotta frode in pubbliche forniture autoriciclaggio insomma loro con i soldi dello Stato italiano hanno fatto tutto quello che vi può venire in mente ecco provate a pensare tutto quello che potete fare con i soldi dello Stato italiano se riuscite ad utilizzarli in questo modo e loro hanno fatto tutto anche la cucina probabilmente si è comprato qualsiasi cosa e beh insomma credevano di farla franca un po' ingenuo pensare di fregarsi tutti quei milioni e farla franca avessero preso una cucina in tutti gli anni probabilmente la cucina sarebbe scappata non si sarebbe notata però poi quando ti fai prendere la mano la cucina la clinica la carne i vestiti le borse gli appartamenti i supermercati addirittura compri degli appartamenti capisci che gli è sfuggita la mano nella marmellata non riuscivano più a togliere la mano compravano qualsiasi cosa con i soldi dello Stato e che bella famigliona arrivederci a tutti e grazie